Si programma la Pesaro che verrà nei tavoli di lavoro degli stati generali del turismo. Violenza domestica, emergenza sociale che chiama a Pesaro esperti a confronto. Studenti di Pesaro e Fano in volo grazie ai corsi di cultura aeronautica. Assegnata ad Utopia la gestione e riqualificazione dell'ex ostello di Fosso Seiore. Fano si accende di magia con il Natale più 2024, tanti eventi dal 30 novembre. Buonasera a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione serale di Rossini News. Un telegiornale di venerdì 15 di novembre che apriamo occupandoci di sviluppo turistico a Pesaro perché a tre settimane dall'appuntamento degli stati generali del turismo tenutisi a fine ottobre che hanno tracciato un bilancio sull'anno da capitale della cultura, l'intero comparto cittadino ora si struttura in quattro tavoli di lavoro per programmare la Pesaro che verrà il servizio. A meno di tre settimane dagli stati generali del turismo che hanno tracciato una linea di bilancio sull'anno da capitale della cultura, la riflessione sull'eredità di questo 2024 sposta lo sguardo in avanti con i tavoli di lavoro degli stati generali del turismo partiti giovedì sera alla Casa delle Tecnologie Emergenti, riunendo professionisti, associazioni, operatori del settore uniti nella partita di costruire l'attrattore della Pesaro che verrà. Il primo incontro ha costruito in tal senso il tavolo permanente di monitoraggio. Agli stati generali abbiamo fatto un racconto per l'appunto generale di quelli che sono i risultati di questi anni, di quest'anno in particolar modo da capitale della cultura, gli arrivi, l'obiettivo, il consigliamento di questi numeri e anche naturalmente un rilancio verso il futuro. Però per poterlo farlo, come abbiamo fatto anche dieci anni fa, occorre rifare un po' un'analisi di a che punto siamo, quali sono i nuovi obiettivi e anche quali sono gli indicatori. Quindi cambiano gli strumenti, anche i digitali di rilevazione, cambiano le modalità, ritorna però anche molta necessità di contatto personale. Quindi volevamo ripartire ad un incontro con gli operatori proprio per definire le prossime strategie e fare in modo che ognuno per i propri ambiti, anche per i propri interessi di cui è portatore, possa aiutarci a costruire un sistema sempre più moderno, efficiente, in cui l'amministrazione possa fare la prima parte, gli enti, le società altrettanto, gli operatori turistici e soprattutto darsi nuovi obiettivi anche rispetto ai flussi turistici che ovviamente sono andati consolidandosi in quest'anno da Capitale della Cultura, ma che dobbiamo fare in modo di non disperdere, anzi di incrementare anche verso le nuove sfide. Fra i temi al centro del dibattito, anche le grandi strutture come Vitri Frigo Arena e Auditorium Scavolini, incubatori di eventi sui quali si vuole puntare in maniera strutturata. Dall'inizio dell'anno della Capitale della Cultura ad oggi la Vitri Frigo Arena ha superato le 300.000 presenze e l'Auditorium Scavolini le 22.000 presenze, considerato da aprile fino a novembre, la metà di novembre. Sono strutture importanti perché permettono di promuovere la città, appunto per attrarre eventi importanti per l'economia turistica del territorio, gli eventi congressuali, gli eventi sportivi, gli eventi legati allo spettacolo sono tanti. Già la prossima settimana avremo due eventi importanti come quello della Pausini di Tananai, due concerti che sono sold out e che in qualche modo così attirano gente sul nostro territorio. Abbiamo visto che quest'anno la Capitale della Cultura ha fatto impennare gli arrivi e le presenze e noi dobbiamo mettere a fuoco questo e partecipare al tavolo permanente di monitoraggio sul turismo come Aspes, che è la società che gestisce le due strutture e da lì ripartire per un rilancio ulteriore insomma di quello che può essere la promozione turistica. Quattro tavoli di lavoro programmati in meno di un mese, il prossimo lunedì 18 novembre nella sede di Alpitour. Un tavolo sarà dedicato alla sostenibilità in cui rientrano tante politiche ambientali, ma non solo il parco San Bartolo, la bicicletta, quelli che sono gli elementi anche caratteristici e caratterizzanti degli ultimi anni della politica amministrativa e turistica e anche culturale della città. Un tavolo sarà dedicato a tutta la partita legata all'inclusione e all'accessibilità, che è un grande macrotema non solo in termini anche potenziali ulteriori mercati turistici, ma di giustizia e di equità e anche di qualità dell'offerta che si fa dare come città e come territorio. E poi il tavolo, Cantiere 2033, che dice da solo l'obiettivo, che è quello di lavorare assieme ai 50 comuni della provincia al grande sogno di Capitale Europea 2033, che ovviamente è una partita molto complessa, ma il solo raggiungimento anche della fase finale vale tantissimo dal punto di vista promozionale e di continuum di quello che è lo sforzo e riconoscimento di questi anni. Il 19enne di Acqualagna, Riccardo Branchini, scomparso presso la Diga del Furlo dallo scorso 12 ottobre, avrebbe lasciato una lettera d'addio alla sua famiglia, ma il contenuto al suo interno è coperto da segreto istruttorio. Si tratta di un nuovo elemento che emerge dalle indagini, ma sul quale rimane il massimo riservo da parte della Procura, che al momento non ha né indagati né ipotesi di reato. Violenza domestica e abusi familiari, un tema scottante, una vera emergenza sociale, con casi che purtroppo frequentemente vi raccontiamo non solo a livello nazionale, ma anche nelle nostre cronache pesaresi. Se ne è parlato oggi in un convegno con esperti di rilievo, chiamati a Pesaro all'hotel Charlie, convegno che è stato seguito per noi da Teobaldo Bianchini. Violenza domestica e abusi familiari, emergenza sociale e risposta istituzionale. Questo è il titolo e anche il tema del convegno che si terrà qui all'hotel Charlie di Pesaro, organizzato dall'AIAF, l'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori, a vent'anni dalla loro Costituzione, assieme all'Ordine degli Avvocati di Pesaro, in occasione di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, che vedrà la partecipazione di tantissime istituzioni del mondo, del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati. Dobbiamo assolutamente costituire una rete sempre più forte che ci consenta di contrastare questa violenza, che invece purtroppo, nonostante l'auspicio, la speranza, che anche la normativa è entrata in vigore, c'è stato il Codice Rosso, ci sono state riforme che si sono succedute, proprio per potenziare anche le misure a tutela dei soggetti fragili, dobbiamo registrare comunque che la violenza c'è a tutt'oggi. Io sono convinta che con un'opera di grande sensibilizzazione, si possa, e culturale, perché bisogna agire proprio a livello culturale, dalle scuole con i bambini, bisogna fare una formazione precisa e specifica. È un momento molto delicato, molto importante, perché anche i dati del Ministero dell'Interno collocano la Regione Marche come una delle regioni dove l'accesso delle persone vittime di violenza nei centri antiviolenza è particolarmente elevato in netta ingravescenza. Abbiamo dedicato questo evento alla violenza domestica, agli abusi familiari, proprio collocandolo fra l'emergenza sociale e la risposta istituzionale, perché c'è bisogno, c'è assolutamente bisogno che di questo argomento se ne parli, non soltanto nel mese di novembre, che è il mese dedicato alle vittime di violenza, ma che se ne parli sempre. La risposta istituzionale è fondamentale per aiutare chi subisce violenze o per le vittime di violenza, quindi si deve attivare una rete a tutti i livelli. Abbiamo cercato di portare i magistrati a livello nazionale, regionale e provinciale proprio a parlare e interloquire anche con il Prefetto, perché loro con le forze dell'ordine sono la prima rete di tutela delle vittime di violenza. Il Prefetto, proprio a seguito della legge 168 di novembre 2023, sono state assegnate ulteriori nuove competenze, in una materia in cui prima effettivamente il Prefetto non era presente. Quali sono queste competenze? Il Prefetto, su indicazione delle forze di polizia che acquisiscono una denuncia o una querela da parte della persona offesa, chiedono, in presenza di elementi di pericolo per questa persona, chiedono che il Prefetto disponga una misura di vigilanza. Misura di vigilanza che può essere la misura della vigilanza VGR oppure può essere anche una vigilanza dedicata, cioè videocollegata è la vigilanza che consente il passaggio frequente presso il luogo di lavoro, presso la casa della persona offesa, mentre invece quella dinamica implica proprio una presenza costante della forza di polizia presso questi posti. Attualmente noi abbiamo negli ultimi tre mesi disposto 16 misure di VGR. Io mi sono fatto un'idea sul campo, ascoltando decine, forse centinaia di storie andate male di vittime, l'idea che mi offre una chiave di lettura che può essere utile anche agli altri operatori e anche a qualunque cittadino è questa. La famiglia, in quanto comunità, che dovrebbe preservare specialmente i piccoli, i minori, e anche le parti meno forti, non è più una cellula che consente di progettare il futuro. Quindi proprio nella famiglia si annidano relazioni che potremmo definire con un tecnicismo disfunzionali, dove un po' tutti soffrono. Quando si supera una certa linea rossa, interviene l'autorità penale, ma secondo me è utile per chiunque, compreso l'operatore giuridico, interrogarsi su questo, cioè andare a ricercare come mai si è cominciato a soffrire, le cose sono andate male e si è arrecato violenza, a volte anche senza un intento malevolo. Ed ora parliamo di incidenti stradali nella provincia di Pesaro e Urbino, perché sono arrivati i dati istati in riferimento all'anno 2023, che dicono come in provincia si siano registrati 1.190 incidenti, con 29 vittime della strada e 1.545 feriti. Rispetto all'anno precedente c'è stato un lieve aumento del numero di incidenti, cioè 35 in più, mentre i morti sono stati 6 in più e i feriti 77 in più. La provincia di Pesaro e Urbino registra il tasso di mortalità più elevato della regione. Ed ora andiamo di nuovo dal nostro Teobaldo Bianchini, che oggi all'aeroporto di Fano si è alzato in volo in occasione dei corsi di cultura aeronautica, che hanno visto Pesaro come città scelta per questa proposta didattica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. Siamo qui all'aeroporto di Fano, dove l'Aeronautica Militare sta svolgendo il progetto di cultura aeronautica, un progetto, un'iniziativa dedicata a studenti e studentesse per avvicinarli a quelli che è il mondo dei padroni dell'area, dei nostri militari in volo. Un progetto che si divide in due fasi. La prima è teorica, dove i ragazzi si avvicinano allo studio del mondo, conoscono l'aereo e il volo nelle sue teorie, e poi quella della pratica a partire dalla prossima settimana, che li vedrà proprio volare come piloti di questi fantastici aerei che vedete alle mie spalle. Ieri si è conclusa la prima parte del corso, la parte che li ha visti impegnati in queste lezioni che sono state fornite da noi istruttori. Oggi i ragazzi hanno fatto la familiarizzazione, non hanno fatto altro che toccare con mano l'aeroplano che gli abbiamo fatto vedere durante la settimana. A partire dal lunedì saranno i comandi, nel vero senso della parola, di questo SCI 208 che sta alle mie spalle, ovviamente guidati da esperti istruttori. Ieri hanno sostenuto un test, hanno ricevuto una votazione. Questa votazione, sommata alla votazione che ciascun istruttore darà a ciascun ragazzo che volerà insieme, concorrerà a formare una gradatoria, una gradatoria che vedrà la premiazione dei primi dieci classificati e i primi tre avranno la possibilità di venire a Guidonia, che è la base del Sessantesimo Stormo, fare uno stage sugli Alianti, unendosi agli altri vincitori dei corsi di cultura aeronautica, delle altre città che abbiamo abbracciato durante quest'anno, e volare anche sull'Aliante, che è un assetto che utilizziamo per l'addestramento dei piloti militari dell'Aeronautica Militare. L'obiettivo è quello di dare degli stimoli ai giovani per il futuro, loro sono il nostro futuro, e quindi dare uno stimolo a pensare al loro futuro. Se poi ovviamente pensano a ciò che è il volo in generale, che può essere non solo fare il pilota, ma fare l'ingegnere, il tecnico, il meteorologo, è ancora meglio e ovviamente se è quello di intraprendere la carriera aeronautica, quello farà piacere anche all'aeronautica, ma l'obiettivo primario è quello di dare lo stimolo a pensare al futuro ai giovani. Mi ha colpito molto tutti i codici di volo e le strumentazioni che si usano per pilotare. Una settimana sicuramente molto interessante, molto fruttuosa anche dal punto di vista di informazioni, di curiosità, diciamo che è un piccolo bagaglio che comunque ci si porta dietro. È stato molto interessante, non mi aspettavo che dietro a un macchinario che può essere considerato anche abbastanza semplice, come un aereo piccolino come questo per volare a basse quote fosse una fisica così complicata con le forze di portanza che spingono in alto un aereo grazie ai flap che si allungano, oppure tutte le resistenze e come funziona il motore. Divulgare il mondo del volo, la passione per il volo, a prescindere da quella che sarà la scelta dei giovani che frequentano i corsi di cultura aeronautica. Noi comunichiamo molto come Aeronautica Militaria anche attraverso i social network, il mondo dei social, che permettono ai ragazzi non solo di vedere quello che facciamo ma di vedersi perché questi ragazzi saranno anche raccontati attraverso i nostri canali. Quindi altri giovani di altre regioni, di altre scuole potranno vedere e vivere quella che è l'esperienza dei ragazzi di Pesaro che magari chissà che anche altri giovani di altre regioni d'Italia non potranno vivere lo stesso sogno del volo. Ci occupiamo ora di sicurezza urbana a Fano. Il comune infatti installa 18 nuove telecamere in quattro punti strategici della città per implementare la videosorveglianza. Abbiamo deciso di implementare la videosorveglianza puntando sul centro storico, quindi tutta Corso Matteotti verrà videosorvegliata in maniera puntuale con delle telecamere innovative che permettono eventualmente di trovare le persone che sono responsabili di atti non consoni. Quindi non implementeremo solamente Corso Matteotti ma queste telecamere ci permetteranno anche di videosorvegliare delle zone molto importanti della nostra città. Il sistema è collegato con la nostra centrale radio per cui tutte le telecamere sono visibili tramite monitor dalla nostra centrale operativa e questo ci consente di monitorare sia i transiti, quindi la circolazione in generale e sia di monitorare quelle zone di maggiore frequenza di persone. Le 18 telecamere che si aggiungono adesso con questo progetto ministeriale vengono tutte posizionate in centro storico. L'abbiamo definito un po' l'asse del Corso Matteotti partendo dalla zona della liscia per monitorare sia proprio la circolazione nell'ambito della rotatoria liscia sia il passeggio delle persone che transitano in Corso Matteotti. Poi l'altro sito ce l'abbiamo all'altezza di Piazza 20 Settembre, poi Piazza Costanzi e la rotatoria che definiamo del Cavour e quindi anche quel quadrivio dove effettivamente abbiamo una intensa mole di traffico. Là siamo partiti anche da quelle telecamere che si mettono solitamente sporadiche a Carnevale. Ne abbiamo visto l'elevata utilità e l'abbiamo estesa quindi anche come modalità permanente. Noi continuiamo a investire sulla sicurezza della nostra città, la videoserveglianza è uno strumento molto importante per oltre a controllare ma anche trovare eventuali responsabili ma nei prossimi giorni presenteremo anche altre iniziative per dotare i nostri agenti di dispositivi di sicurezza personale nei loro confronti, quindi i famosi distanziometri e anche dotazioni innovative verso gli agenti di polizia locale perché noi vogliamo degli agenti sicuri e che possono intervenire nei confronti di chi purtroppo non rispetta la legge. La Regione Marche ha ufficialmente assegnato l'ex ostello di Fosso Seiore alle attività del gruppo Utopia di Pesaro che da inizio anno gestisce con successo la trattoria sociale del parco Miralfiore. L'ostello è inutilizzato dal periodo pre-covid e lo scorso anno la Onlus Gulliver ha manifestato un interesse di presentare un progetto sull'ostello. La Regione ha così deciso di non alienare il bene e lo scorso mese ha indetto una gara per la gestione che viene ora vinta dal progetto Utopia che coniugherà nuove opportunità lavorative inclusive in quegli spazi. L'ostello è stato assegnato per 12 anni ad un prezzo simbolico di 10.000 euro annui. Ora parte una fase di lavori per riqualificarlo con l'obiettivo di riaprire l'ostello con 14 camere e la creazione di una pizzeria e un laboratorio di pasta fresca. Si punta ad una parziale apertura già da giugno con la terza edizione del Festival Utopia. La nuova mensa dell'istituto Pirandello sarà il primo cantiere scolastico con fondi PNRR che sarà inaugurato a Pesaro. Taglio del nastro previsto per i primi giorni del 2025 per uno spazio da 290 metri quadrati sul quale si è investito 715.000 euro rispondendo ad un'esigenza di irrefezione scolastica. Ha superato quota 5.000 tombini ripuliti e spurgati l'operazione di manutenzione straordinaria delle caditoie della città di Pesaro voluta dal comune e che continua come prevenzione agli allagamenti in ogni quartiere secondo un ordine di priorità stilato da marche multiservizi. Dal 18 al 22 novembre dalle 6.30 alle 12 si interverrà nel quartiere di Montegranaro ripulendo le caditoie di via Baracca, via Gasparri, Valentini, Palli, Vildi, Militegnoto, Locchi e via Martiri di Fragheto. A Fano è iniziata la fase 2 dell'operazione di rimozione dell'imbarcazione Nettuno abbandonata da oltre un anno nel porto. Dopo un lungo lavoro di squadra tra comune, capitaneria di porto e altri enti, il relitto è stato spostato oggi in un'area pubblica all'interno del porto a costo zero per l'amministrazione. Il comune ora procederà con le azioni legali necessarie con l'armatore per il recupero dei circa 100 mila euro impiegati per la precedente rimozione dalle acque del porto. Allo Yellow Park di Tavuglia sono state installate due nuove panchine letterarie donate al comune dalla ditta Viscio Urban Design di Apricena in provincia di Foggia. Una delle panchine griffata con i colori, i loghi e gli stemmi della VR46 Raders Academy di Valentino Rossi e dei suoi piloti più celebri, mentre l'altra è dedicata interamente al pluricampione del mondo e celebra il suo legame con Tavuglia e la passione per la velocità. Iniziativa sposata con entusiasmo dallo stesso Valentino Rossi che va così ad arricchire l'offerta dello Yellow Park, parco inclusivo dedicato ai più piccoli e ispirato alle imprese delle campione tavugliese. Il prossimo 22 novembre ricorre Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, ricorrenza che Pesaro celebra da anni ma che per l'anno di Capitale della Cultura decide di allargare a quasi un mese di eventi bene 37 appuntamenti che cominciano già da questa sera. Come ogni anno Pesaro, città della musica Unesco, celebra Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti che ricorre il 22 di novembre ma che nel 2024 da Capitale della Cultura diventa un omaggio alla musica extra-larsh dilatato in quasi un mese di eventi e declinato in 37 appuntamenti che toccheranno ogni genere. Una carrellata di concerti e di incontri che ha visto il coinvolgimento della maggior parte delle istituzioni musicali cittadine e che comincerà già questa sera 15 novembre. Il 21 novembre sarà in particolar modo a cura del Conservatorio Rossini come da tradizione ma allo stesso modo inizieremo simbolicamente con il Rossini Opera Festival nel nome di Rossini a pochi giorni dalla scomparsa, quindi con il primo concerto proprio il 15 di novembre. Il trio già in programma dedicato al ricordo della figura di Rossini attraverso tre grandi strumentisti e concluderemo questa lunga cavalcata addirittura il 12 di dicembre quando è previsto un appuntamento internazionale che presenterà anche il meeting mondiale degli Stati della Musica Unesco che si terrà a Pesaro dall'8 all'11 aprile prossimo e nel Salone Metaorense della Prefettura ospiteremo degli artisti della città di Brno in Repubblica Ceca che è una città creativa della musica come Pesaro e che per l'appunto vedrà esibirsi degli artisti venuti appositamente per questa occasione e per presentare il meeting che terremo ad aprile. Nel mezzo tanti soggetti protagonisti, naturalmente l'orchestra sinfonica Rossini con il concerto anche nella cantina dell'Eiva su San Bartolo passando per lente concerti, naturalmente protagonista a partire da domenica prossima con Raffael Guerazzi e anche dicevo luoghi club che abitualmente danno un grosso contributo alla scena musicale pesarese a partire dal Circolo Mengaroni, lo spazio Uebo e anche il Grà che sono a programma con una loro visione specifica e musicale che andrà quindi ad arricchire un po' tutto il programma che poi vede i concerti dal balcone insomma cose a cui siamo abituati e anche una piccola novità a cui teniamo però particolarmente che è un piccolo festival dei cantastorie che terremo nella corte Dario Fofrancarame di Palazzo Mazzolari nella domenica mattina che è un po' il luogo anche più tranquillo per ascoltare queste storie diciamo che antiche e che vengono da lontano e che in un luogo che abbiamo dedicato già da tempo anche alla commedia dell'arte, nel tipo di fare musica e arte in strada, crediamo che possa essere una piccola novità a cui magari anche come città ci affezioneremo. E cominciano anche le programmazioni natalizie dei tanti comuni che si vestono a festa in vista del 25 di dicembre. Ora andiamo a conoscere le proposte del Natale più di Fano. Quest'anno il Natale 2024 avrà tantissime novità a parte che inizierà come ben sapete vedete anche dalla Locandina dal 30 di novembre terminerà il 6 di gennaio. Le novità principali sono che abbiamo messo la pista di patinaggio direttamente al pincio, questo grazie anche all'ok che ha dato la sovrintendenza e oltre a quello ci sarà un bellissimo igloo dove ci sarà la Buon Natale. Oltre a questo l'altra novità è che i mercatini dureranno addirittura fino al 6 gennaio mentre gli anni passati al 24 già li chiudevamo. Invece abbiamo deciso anche in collaborazione con l'amministrazione di tenerli aperti anche per il weekend successivo e anche il weekend per quello che riguarda la Befana. L'accensione dell'albero sarà fatto il giorno primo di dicembre indicativamente verso le ore 18. Poi ci sarà anche in piazza Marcolini un altro albero di Natale allestito con altre tante animazioni e diciamo abbiamo voluto cercare di abbracciare il più possibile tutto il centro storico per dare anche una risposta di presenza importante sul centro anche a supporto dell'attività economica, a supporto della sicurezza del centro e a supporto anche di una festa come quella del Natale cui non sono diciamo solo affezionati i bambini ma tutte le persone. Le luci partiranno da oggi quindi le luci natalizie dislocate un po' in tutto il centro si accenderanno questo pomeriggio e pertanto riteniamo di poter mettere la città nelle condizioni di essere davvero accogliente e divertente. La collaborazione di ASET quest'anno si svolge secondo due canali il primo è quello legato alla valorizzazione della pista di ghiaccio nella zona del Pincio che sarà uno spettacolo invidiabile per tutta la città e una suggestione particolare e la seconda soprattutto un'iniziativa rivolta ai più piccoli quindi laboratori per i bambini svolti dai folletti dove i bambini parteciperanno e verranno educati secondo le corrette regole della raccolta differenziata quindi ci saranno dei laboratori giocosi dove però tramite il gioco noi riusciremo a trasmettere dei messaggi educativi per far sì che le giovani generazioni crescano consapevoli e attente alle tematiche ambientali. Si conclude qui il nostro spazio informativo serale di Rossini News vi ricordiamo alcuni appuntamenti a cominciare da quello che arriva subito dopo il Tg alle 20 con il nostro magazine la natura della cultura dedicata alla prossima capitale della cultura per una settimana sarà il comune di Pietrarubbia a mettersi in mostra dal prossimo 18 di novembre ne parleremo questa sera alle 20 ricordandovi anche il riassunto settimanale delle magazine domani alle 12 e le 19 domenica alle 15 e alle 21 questa sera poi alle 21 idee sotto l'albero quelle proposte dalla trattoria pesarese da sante con la sua tradizione e l'usto delle pesce fresco. E ancora alle 22 c'è la replica di insieme a Canestro il nostro focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che va in diretta ogni giovedì potrete vedere la replica della puntata andata in onda condotta dalla nostra Elisabetta Ferri con la collaborazione di Alessio Zaffini puntata che ha visto ospiti Nicola Egidio Assistant General Manager della Carpegna Prosciutto Basket e il giornalista Raffaele Vitali repliche anche domani alle 11 e le 20.45 e domenica alle 9.30 e alle 14.00 e poi vi ricordo che l'informazione di Rossini TV torna domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione di questo sabato 16 di novembre sarà condotta dal nostro Antonio Astuti. Si conclude invece qui questa edizione delle telegiornali Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.